Hanno creato allarme i risultati delle analisi effettuate dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca su un'area di Albino dove dovrebbero sorgere le vasche vicino al fiume Serio per la presenza nel sottosuolo di metalli pesanti. Il Comune di Albino come sta seguendo questa vicenda? Innanzitutto vorrei usordire dicendo che questo allarme a mio modo di vedere è ingiustificato ed eccessivo quindi vorrei rassicurare tutti i cittadini di Albino e qui e anche quelle persone che frequentano quella zona perché gli passa la pista ciclopedonale dalla Val Seriana. Il Comune di Albino sta procedendo come è necessario e doveroso che si proceda siccome l'area pur non essendo un'area di proprietà comunale e non interessata di interventi di edilizia pubblica e quindi da parte del Comune ma è un'area che si trova su Comune di Albino il Comune di Albino deve gestire, deve coordinare eventualmente tutti gli interventi e tutti i passi futuri per capire effettivamente se l'area è contaminata o no. Dico questo perché si parla di potenziale contaminazione. Il Consorzio di Bonifica della Media Bassa Penure Bergamasca ha fatto delle indagini preliminari perché deve o comunque è in animo di realizzare due grosse vasche. Queste indagini preliminari hanno evidenziato dei superi di alcuni metalli pesanti per cui si parla di potenziale contaminazione. Noi i dati effettivi ed ufficiali li abbiamo avuti solo ieri, ovviamente in richiesta ufficiale a fronte di una conferenza di servizio che come Comune abbiamo subito convocato allora quando prima di Ferragosto abbiamo ricevuto questa segnalazione da parte del Consorzio di Bonifica con tutti gli attori protagonisti del caso, quindi il Consorzio e ASL, ARPA e l'Ufficio Ambiente della Provincia. Ora è necessario procedere a un piano di caratterizzazione dell'area in contraddittorio con l'ARPA perché ovviamente è necessario, il contraddittorio è necessario che l'ARPA a sua volta faccia le proprie dovute indagini e valutazioni. Solo a fronte di questo piano di caratterizzazione poi potremo fare un'analisi dei rischi e vedere effettivamente cosa fare, come intervenire. Ma adesso come adesso si parla solo di potenziale contaminazione. I primi dati evidenziano che la falda, che lì è molto alta, che siamo vicini al fiume Serio, non è stata contaminata. Questo è già positivo. E che comunque se superi ci sono, se contaminazione c'è, ammesso o non concesso, riguarda interventi di decine e decine di anni fa. Quindi non recenti, d'altra parte è l'area lì da vedere, anche a mia memoria ho poco più di 40 anni, l'ho sempre vista verde quella zona e di conseguenza si parla di eventuali depositi negli anni 60, anni 70. L'area non è mai stata antropizzata, è stata un'area verde, attorno ci sono delle realtà produttive, l'area inserita in un contesto infatti produttivo e non residenziale, che questo è un aspetto molto importante a tenere presente. E lì è stato previsto dal Presidente PGT, variante al PGT realizzata dall'amministrazione di centro-sinistra, un maneggio e le vasche nel sottosuolo. È evidente che adesso tutto è fermo in stand by, nessun permesso di costruire può essere rilasciato finché non si capisce bene cosa c'è sotto e quindi che strada intraprende. Niente, adesso noi comunicheremo, visto che abbiamo acquisito i dati ufficiali e completi delle andagini preliminari fatti dal Consorzio, comunicheremo a tutti i proprietari delle aree che sono stati segnalati questi superi. Convocheremo comunque a breve anche una commissione territorio per illustrare, per spiegare anche a tutti i consiglieri, maggiormente in minoranza, come stanno le cose, per comunque metterlo un po' tutti in tranquillità, con l'animo in pace, per visto i titoloni eccessivi che sono girati in questi.